Gentili telespettatori, buona giornata. Si è concluso il vertice degli invidiosi. Il vertice dei tre leader del centrodestra. Forse quella parola leader non si addice a tutti quanti. Giorgia Meloni per Fratelli d'Italia, Silvio Berlusconi per Forza Italia e Matteo Salvini per la Lega, ad Arcore, da Silvio Berlusconi, a casa di Silvio. Un vertice che è fallito come io avevo immaginato perché l'ho chiamato apposta il vertice degli invidiosi perché quando c'è di mezzo l'invidia, l'invidia è un qualcosa che nasce in maniera automatica. L'invidia c'è in tutti noi in maniera minima, chi un po' di più chi di meno, ma all'improvviso in molte persone si scatena l'invidia ed è incontrollabile, è inconscia. Chi è affetto da invidia non è consapevole, pensa addirittura che siano gli altri ad essere invidiosi. Come voi sapete Berlusconi e Salvini si sono coalizzati contro Giorgia Meloni perché non accettano, non assimilano che lei sia davanti a loro due e sia il primo partito italiano, Fratelli d'Italia, e il primo partito nel centrodestra. Quindi di diritto spetta a Giorgia Meloni la leadership nel centrodestra. Beh, lei ha fatto finta, Giorgia Meloni, per diverso tempo che ha fatto finta che andava tutto bene, nascondendo i problemi. Si diramavano note congiunte nel centrodestra, per l'unità del centrodestra, tutti uniti, tutti per uno, uno per tutti, invece era tutti per nessuno. Lei lo ha detto pubblicamente, in privato, il centrodestra è unito. Ma più passano i giorni e più la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha la sensazione che i due suoi alleati storici stiano tentando di imbrigliarla e fermarla, la sua corsa, di mettere Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni ai margini della politica italiana, nonostante sia il primo partito, metterla ai margini. Come? Facendo un governo uguale a quello di oggi. Ecco, pertanto sono disposti ormai a perdere, perfino, pur di addossare le colpe a Giorgia Meloni e magari dichiarare impossibile una coalizione attrazione sovranista. Sono disposti addirittura a perdere, a far vincere la sinistra, piuttosto che far vincere Giorgia Meloni. Qui siamo al livello più alto dell'invidia e quell'invidia rancorosa che preferisce distruggere tutto piuttosto che dare spazi all'invidiato, in questo caso all'invidiata Giorgia Meloni. Beh, una sensazione che durante il vertice degli invidiosi Giorgia Meloni ha fatto sua. Si è resa conto che tutto quello che raccontavo io purtroppo era realtà. Non so se Giorgia Meloni abbia mai guardato questo canale, probabilmente sì, perché insomma questo è il secondo canale più potente di politica. Con quasi 200 milioni di visualizzazioni sfido qualunque canale ad averne di più. Ce ne ha di più fanpage, ma fanpage è diverso, ci sono più persone, più un giornale che un canale di politica. Quindi forse questo è il primo canale in YouTube di politica e di una certa anche forza con tutte queste visualizzazioni grazie a voi. Non lo so se Giorgia Meloni ha sentito i miei video o se realmente la pensa esattamente come la penso io, perché quello che vi ho appena raccontato e quello che vi ho sempre raccontato, nonostante molti di voi, ma tu dividi il centrodestra. Forse io leggendo tutti gli articoli del giorno ho un quadro più completo della situazione. Ma così intanto Giorgia Meloni dirama una nota nella quale si mettono nero su bianco i nodi ancora da sciogliere. Cioè uscita dal vertice ha capito che quel vertice era solo di facciata, un vertice solo per far vedere all'esterno che sono uniti. Ecco, mette nero su bianco e dice alleanze zoppicanti nelle città al voto. Caso Sicilia ma anche prospettive, regole di ingaggio e modalità per le liste e programmi delle prossime elezioni. Crepe si sommano a crepe, diffidenze e veleni e sospetti in un clima gelido, plumbeo, gotico. Nonostante la bella cornice di Arcore è stata una riunione difficilissima, nonostante i regali, perché Berlusconi ha regalato le madonne a Salvini e a Lameloni, un quadro, sicuramente un quadro anche di un certo valore. Non credo che Berlusconi compri i quadri ai mercatini dell'usato, quelli da 10-15 euro. Quindi quadri raffiguranti la madonna regalati, probabilmente con dedica di Berlusconi, ma non sono serviti a nulla, tanto che la stessa Meloni si è chiesta con i suoi perché l'abbiano organizzata se non si volevano trovare soluzioni. Una finta riunione, una pagliacciata. Salvini e Calderoni se ne sono andati via per primi e fino alla tarda mattinata alla leader di Fratelli Italia non era chiaro nemmeno se sarebbero andati all'appuntamento. Berlusconi ha provato subito a prendere in mano la situazione, ci sono il padrone di casa, gestisco io il centrodestra, parliamo dei programmi per le politiche, dice Berlusconi, Berlusconi, ma la Meloni lo ferma subito. Non solo perché il suo ripetuto richiamo al ruolo di federatore che Berlusconi vuole ritagliarsi non la convince affatto, come non ama quel modo molto maschile che percepisce di considerarla una ragazzina, ma perché ha avuto la sensazione che si cercasse solo un risultato per i giornalisti, una buffonata a favore dei giornalisti, nulla di più. No, dice Giorgia Meloni, parliamo di amministrative, parliamo di musumeci, dice. Salvini ha frenato e il sospetto di Giorgia Meloni è che il comportamento del leghista sia quello di lasciare che Musumeci alla fine corra, perché Fratelli d'Italia non mollerà, ma di logorarlo, nascondersi dentro la lista civica prima l'Italia, o prima gli italiani, non mi ricordo neanche come si chiama tanto importante. Quindi è nascondersi dentro la lista civica e poi, se dovesse perdere Musumeci, incolpare proprio lei del disastro, vista la Meloni come una rivale da annientare politicamente. Berlusconi poi ha cercato di ricucire, dice, parlando con Meloni, rassicurandola su musumeci, anzi proponendo di scrivere una nota in cui gli assicurava il suo appoggio e sostegno in Sicilia. Ma mentre la Meloni faceva diramare la sua nota, chiamando appunto in causa il cavaliere e la sua disponibilità, qualcosa è cambiato. Il sospetto è che sia stato frenato dal leader del carroccio, che gli ha detto, ma come? Adesso gli prometti? No, eh? L'invidia più totale e rancorosa. E così Ronzulli, Salvini... Berlusconi poi ha cambiato idea, ha comunicato la sua irritazione, le cui... la sua irritazione per le dichiarazioni di Meloni che ha fatto presente che quel vertice era un finto vertice, il vertice degli invidiosi rancorosi. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata.